Buongiorno dalla redazione web della città di Torino, ben trovati, questa è la prima edizione dei nostri due appuntamenti quotidiani con le notizie dal web della città, disponibili a partire dalle ore 10 anche sul canale multimediale di youtube www.youtube.com. Come sempre partiamo con la viabilità, ci aspetta in linea Walter Gerbi, l'ispettore capo della centrale operativa del comando della polizia municipale per darci le notizie di oggi, martedì 8 luglio. Buon martedì 8 luglio, le notizie di oggi, rallentamenti in corso Duca degli Abruzzi tra corso in Audi e corso Stati Uniti per lavori GDT, in strada del francese tra i civici 70 e 102 per lavori Iride, in piazza Carlo Felice per il metrale Ovest e in largo Giacchino, divieto di transito in via Castelgomberto tra l'interno 139 e la via Tempio Pausania per lavori smatte, nella notte tra martedì e mercoledì dall'1 alle 3 come di consueto la chiusura del sottopasso porta palazzo per operazioni di pulizia meccanizzata, semafori in manutenzione in via De Santis, angolo via Vandalino, rallentamenti anche in via Pertinace, uscita in bici nel parco Colonnetti dei bimbi della scuola infantile La Giostra, da via Monastir dalle 10 alle 11 e 30, dalle 17 alle 19 in piazza Castillo, fronte prefettura, presidio contro i provvedimenti in materia di sicurezza, dalle 20 e 30 alle 23 in piazza Carlo Alberto, presidio di solidarietà con il tibet, è tutto, buon viaggio! Grazie a Walter Germi, vi ricordo che le notizie di viabilità sono disponibili all'indirizzo web che vedete in sovraimpressione, all'indirizzo dei vigili urbani ed inoltre è possibile riceverle sulla vostra casella di posta elettronica ogni giorno, sul sito trovate tutte le modalità di iscrizione al servizio. Veniamo a qualche notizia sui principali appuntamenti istituzionali della giornata di oggi, ore 10 a Palazzo Civico la riunione della giunta comunale, alle ore 12 e 30 sempre a Palazzo Civico in sala dell'orologio il sindaco e l'assessore Passoni intervengono alla conferenza stampa di presentazione del protocollo d'intesa sulla lotta all'evasione fiscale sottoscritto tra comune e agenzie delle entrate, alle ore 18 e 30 al Parco Stura in corso Giulio Cesare gli assessori Curti e Borgogno intervengono alla presentazione della programmazione estiva al parco per le rassegne ossigeno e muoviti positivi. Bene, passiamo al meteo. L'ultima rinnovazione è quella delle 8 e 50 fornita come sempre dall'ARPA Piemonte, disponibile sul sito della città, ci dà come potete vedere un tempo, un cielo sereno, una temperatura ancora contenuta, siamo sui 22 gradi e un'umidità per fortuna quest'oggi piuttosto bassa, 35%, infatti per il resto della giornata le previsioni sono positive e ci danno un tempo sereno sia per il pomeriggio che per la sera, che per la notte. E' attualmente online l'edizione uscita ieri alle 17 di Torino Click, vi diamo qualche notizia, meno risorse puntiamo all'essenziale, quello che ha affermato il sindaco Camparino in una lettera inviata alla stampa, il sindaco ha rivolto ai torinesi il molito, si dovranno gestire sacrifici ben più pesanti con il vincolo di salvaguardare l'essenziale di ciò che abbiamo costruito in questi anni, ha detto il sindaco, cioè una città che è ripreso a crescere, che sta costruendo coesione sociale ed urbana e si parla poi di scambi internazionali, una finestra sul mondo per i giovani tra i 13 e i 30 anni che potranno viaggiare e aprirsi una nuova finestra sul mondo attraverso viaggi in diverse mete, dalla Polonia all'Austria, la Bulgaria, la Romania, la Turchia e molte altre. Infine il trofeo della Mole per l'edizione del 2008 porterà a Torino atleti internazionali, l'edizione vede raggiungere nel campologo piemontese quasi 100 atleti di entrambi i sessi provenienti da 19 paesi con 5 continenti rappresentati. Bene, ci colleghiamo adesso con la webcam della città, come ogni giorno partiamo dalla rotonda autostrada della Torino-Milano, il sole splende, il traffico è contenuto, passiamo a Piazza Palazzo di Città, anche qui vediamo il cielo sereno su Palazzo Civico, ci spostiamo in Piazza Castello con la webcam offerta dalla regione, vediamo la stessa situazione e anche a Piazza Derna con la telecamera che ci è offerta da 5T dove il traffico è tenue e contenuto. Bene, per oggi, per questa mattina è tutto, noi vi diamo appuntamento all'edizione del pomeriggio alle ore 16 e 15, vi ricordiamo il canale multimediale della città dove rivedere tutte le edizioni con le notizie dal web della città, ringrazio Paolo Mosso che mi ha aiutato nella messa in onda di questa puntata, arrivederci a più tardi.